Jonas Blue e Liam Payne a X Factor 12 si sono esibiti sulle note di Polaroid durante il 6 grade live show, come ogni anno. A X Factor sono presenti anche ospiti internazionali per presentare i loro ultimi progetti, e questa settimana è il turno di Jonas Blue e Liam Payne, il primo, produttore di fama mondiale. Solo con il precedente singolo ha totalizzato circa 5 miliardi di streaming in tutto il mondo. Il secondo è una delle voce e uno dei volti degli Excellent Direction, la boy band nata ad X Factor e classificata terza, per poi ottenere un successo mondiale soprattutto tra le nuove generazioni. Ma non so, l'annuncio c'era già stato tempo fa durante la conferenza stampa del programma proprio per la fase del live, e questa settimana è arrivato il momento di vederli sul palco, tra gli ospiti di stasera giovedì 29 novembre e anche Giorgio, che ha presentato il suo ultimo singolo in pasto pieno di sassi estratto dal tuo album di Power Pop. Liam Payne, Liam Payne, Spatter 12 sale quindi sul palco al fianco di Jonas Blue, produttore musicale che è tornato per la nuova singola Polaroid dopo il grande successo mondiale del brano Rise. Dopo gli anni passati nella Boy Band One Direction, Liam Payne ha l'ultra fase e carriera da solista pubblicando vari singoli come Red Wings, con il penilero proprio Polaroid con Jonas Blue e Lennon, mentre lo scorso agosto ha pubblicato il suo ep intitolato First Time che comprende quattro tracce. Dopo l'esibizione sul palco, Alessandro Cardella raccoglie i due artisti chiedendo loro come è nata la collaborazione, e Jonas Blue racconta di aver conosciuto Liam Payne un anno fa, da lì è nato tutto il lavoro in studio che ha portato all'arrivo del brano Polaroid.